Benvenuti all'Allegheo, per noi è un vero omore, ricevere la stampa. La nostra stella della musica classica è già pronta per la conferenza, ma prima vogliamo aderiziarvi con questo magnifico brano. La nostra stella della musica classica è già pronta per la conferenza. La nostra stella della musica classica è già pronta per la conferenza. La nostra stella della musica classica è una musica che ti piace. È una musica che ti piace? È una musica che ti piace? Allora, ammetti che ti piace capire. Sì, certo che mi piace. Sono innamorati... Grazie di essere qui. Hai detto che erai in grado? Sei ancora o no? Molto bravo per il computer? No. Adesso sono molto bello. E' così che mio padre ha incontrato la professoressa Brancausa per strada? Eccomi qui. Callie, vorrei chiederti cosa pensi di questo fenomeno del web. E' una ragazza, una giovane artista che nei suoi mashup unisce la musica classica con la musica pop. E' conosciuta da tutti come Mika635. Pensi che sia una mancazza di rispetto verso la musica classica? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.